È un manufatto record, quello realizzato dalla divisione Fucine di Acciai Speciali Terni. Si tratta di un cilindro del peso di 270 tonnellate, destinato ad essere installato su un laminatoio per la produzione di lamiere e ora partito per la Germania. È stato prodotto a quasi due anni dal colaggio di un maxilingotto da 510 tonnellate e dopo complesse fasi di lavorazione. L'Ast ha spiegato che il cilindro è stato ricavato dal grande lingotto colato a fine gennaio dello scorso anno, composto da un unico blocco di acciaio di forma troncoconica con misure di circa 4,5 metri di diametro e oltre 6 di altezza che ha rappresentato la materia prima da cui partire. Per l'azienda del gruppo Arvedi si tratta del più grande cilindro utilizzato al mondo che ad oggi solo alcune aziende asiatiche, oltre ad Ast, l'unica in occidente, sono in grado di realizzare. Con un treno speciale lungo oltre 64 metri, il cilindro ha lasciato Terni lo scorso fine settimana per raggiungere il porto di Civitavecchia, dove una volta scaricato con una speciale gru portuale, sarà imbarcato su una nave cargo con destinazione il porto di Rotterdam.